Ciao a tutti, io sono il Dilan Dorofido. Oggi recensione dell'album in sile numero 116, La Governante, che troviamo anche all'interno della grande restampa numero 39. Qui sulla sinistra possiamo ammirare la copertina originale proposta da Angelo Stan, mostruosa, nel senso che fa molta paura. Troviamo questa governante diabolica ritratta davvero in maniera molto tenebrosa, la copro, altrimenti dopo me la sogno di notte. Qui abbiamo invece Dilan che si tiene stretto Mita, che sarebbe la sua semi-ragazza in questa avventura. Dilan deciderà di aiutare questa donna senza ricevere in cambio neanche una sterlina, lo farà solamente per dovere morale, perché comunque ci si è affezionato. Testa sceneggiatura di Manfredi e disegni di Siniscai, che giriamo a pagina che è meglio, altrimenti dopo mi sogno con la governante maledetta di notte. Di che cosa parla questa avventura? Come avrete potuto intuire, il nemico principale, la chiave di tutto, è questa sottospecie di Mary Poppins in versione malvagia. Una Mary Poppins che aveva, in realtà si chiama Erika, che aveva in custodia questa ragazza tanti anni fa. Questa ragazza adesso avrà all'incirca, a vedere così dai disegni, un 20-25 anni. Quando questa ragazza Mita era bambina, aveva questa governante che la curava, insomma la seguiva in tutto per tutto. Questa governante è stata poi licenziata e appare dopo tanti anni davanti allo sguardo di Mita. E quindi Mita è incredula, insomma una governante che già all'epoca era vecchia e a quanto pare sopravvissuta, insomma era già vecchia e decrepita quando Mita era piccola, figurarsi adesso che sono passati 20 anni. E cosa succede però? Questa governante va in giro e ammazza tutti i potenziali nemici di Mita. Tutti coloro che pongono ostacoli davanti alla vita di Mita, soprattutto in ambito lavorativo. Ad esempio c'è Mita, ha tanto da offrire nel mondo del lavoro, è davvero una manager qualificata, però davanti a lei c'è un suo collega che diciamo si crede chissà chi e non vuole cedere l'incarico a questa ragazza meritevole. Quindi arriva questa Erika, questa governante che va e lo ammazza. Poi c'è la psicologa, la psichiatra di Mita che pone a sua volta degli ostacoli a questa ragazza, allora la governante va ad ammazzare anche lei. Insomma tutti coloro che rompono le balle direttamente o indirettamente a Mita vengono fatti prontamente fuori da Erika, questa governante davvero malefica. A questo punto Scotland Yard inizierà a far partire le indagini e la prima sospettata è giustamente Mita che insomma ogni volta che c'è un delitto c'è sempre di mezzo lei, quindi c'è qualcosa che non va. Dylan verrà a scoprire per caso la storia di questa ragazza, ci sarà un incontro casuale, dopo ci si affezionerà e quindi deciderà di aiutarla per il corso dell'avventura. Ma cosa succede realmente? Praticamente Mita inizialmente pensava di avere delle visioni, delle allucinazioni, ma dopo attenzione c'è una storia più profonda dietro tutto ciò. Mita è praticamente un'erede di una famiglia finlandese, ecco questa famiglia finlandese nella propria abitazione dove abitava Mita da piccola aveva tanti cimeli. Uno di questi era una specie di reliquia protettrice, ecco questa maschera qui che era appesa nella casa faceva un po' da protettore, ecco era una specie di non demone ma un'entità che proteggeva insomma la famiglia in generale. Perché i nonni di Mita erano molto appassionati a queste credenze, a queste leggende, allora avevano tanti cimeli particolari in casa. Ecco, nel momento in cui la mamma di Mita ha rimosso questa maschera dal muro di casa perché non gli piaceva, si è scatenato il caos e nessuno è stato più in grado di proteggere la famiglia da cui discende Mita. Per questo motivo la governante è frutto di questi demoni che hanno approfittato del fatto che non c'era più la casa protetta, allora sono andati in giro a seminare panico e terrore facendo ritornare in vita questa governante. Insomma, forse detto così a parole è più complicato di quanto ci sia in realtà scritto, è una sorta di maledizione insomma. E a questo punto come si fa a cacciare via questa entità che insomma va in giro ad ammazzare un sacco di gente? Ecco, il tutto si risolve con un finale un pochino scontato ecco, un finale scontato ma solamente in parte fortunatamente perché poi la seconda parte è più d'azione e più appagante. Ecco, non voglio svelarvi oltre per non spoilerarvi ulteriormente altri dettagli. Comunque la storia mi è piaciuta, un pochino forse noiosetta in determinati punti, sulla metà dell'avventura ci sono delle fasi di stallo in cui il lettore tende a perdere un pochino l'attenzione perché la storia diventa un pochino noiosetta, ma dopo rincomincia a ingranare e dopo Manfredi partendo dalla metà fino alla fine del racconto rincomincia a mettere l'olio sugli ingranaggi e quindi la storia prosegue e continua, re-ingrana e ci propone un finale abbastanza buono. Dicevo, per quanto riguarda invece i disegni di Siniscalchi non mi hanno convinto pienamente, il voto finale che vado ad attribuire a questa storia è un 7,5 perché appunto la trama e comunque il soggetto e la sceneggiatura e i dialoghi mi sono piaciuti, non troppo però mi sono piaciuti abbastanza, mentre per quanto riguarda i disegni ci sono luci e ombre sui disegni di Siniscalchi che in determinate occasioni rappresenta davvero molto bene le situazioni scaturite dalla mente di Manfredi, in altre situazioni invece disegna un pochino maluccio il volto di Dylan, in questo caso è disegnato molto bene ma in determinati casi lo disegna molto male, anche sproporzionato con dei allineamenti strani che non mi sono per nulla piaciuti, mentre gli altri personaggi sono stati disegnati abbastanza omogenei, Grouch a sua volta è stato disegnato abbastanza bene, insomma l'unico che come al solito ha sempre problemi per quanto riguarda la rappresentazione finale è purtroppo il personaggio di Dylan, protagonista del suo omonimo fumetto, che altro dire dei disegni di Siniscalchi? Troviamo per la prima volta una rappresentazione completa dell'ufficio di Block, vedete c'è proprio l'ufficio a pieno schermo per così dire, in un'unica vignetta si vede finalmente nella sua totalità l'ufficio di Block, un pochino spoglio, l'avrei riempito con più oggetti più particolari, Block che porta un insolito papion al suo collo, per il resto disegni che invece mi sono piaciuti in determinate situazioni, soprattutto quelle dove c'è Erika che si trasforma in questo demon, in questo mostro, insomma è molto molto, spaventa molto il lettore, sono disegni davvero molto molto brutti, sono belli però sono brutti nel senso che fanno paura, magari a voi non faranno né caldo né freddo, invece a me questi disegni di Siniscalchi in determinate situazioni hanno anche eventualmente fatto paura, e questo non è che un bene per un fumetto che di natura dovrebbe essere per l'appunto horror. Bene, voto finale comunque ve l'ho detto, 7 e mezzo, non ho nient'altro da dirvi, se non avete questa storia, se avete voglia recuperatela, altrimenti no, non è una storia must have, ma comunque non è neanche una storia brutta, quindi se vi capita l'occasione di recuperarla in giro, o di leggerla in giro, andate a leggerla. Per il momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi con chi vuoi, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo, per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog, e noi ci vediamo in un prossimo video completamente dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo.